Da tempo ormai indipendente e convintamente all'opposizione dell'amministrazione Leonardi, a Mascalucìa il consigliere comunale Andrea Guglielmino continua la sua battaglia per la situazione di Massa Annunziata. Secondo Guglielmino la frazione meriterebbe maggiore attenzione. I cittadini di Massa Annunziata, soprattutto in questa periferia, richiedono una maggiore attenzione da parte dell'amministrazione in questa zona, soprattutto per la parte che riguarda la piazza. Come possiamo notare, come ha potuto notare anche lei, qui non avviene mai una pulizia sistematica della zona ed è abbandonata anche dai servizi di polizia municipale. Questa situazione non può continuare così, è una situazione che deve dare un termine. Tralasciamo il fatto che qui in questa strada ancora a doppio senso passano mezzi pesanti e anche autobus, come può vedere, che non riescono ad attraversare la strada per colpa anche delle auto posteggiate in doppia fine. Tra l'altro lei ha chiesto anche in modo formale una maggiore presenza della polizia municipale. Io ho chiesto anche in modo formale una maggiore presenza, sì, attraverso una carta scritta indirizzata al comandante, al capo area dei servizi di polizia municipale, che per un periodo ha mandato i vigiurbani, ma poi questo servizio si è abbandonato e non è mai stato più ripreso.